Non sono un mezzo di trasporto, non sono cibo, non voglio più garaggiare per nessuno. L'ignorante sa molto, l'intelligente sa poco, il saggio non sa niente, l'imbecile sa sempre tutto. Arrivato il primo carico di grano dell'Ucraina, si può tornare a produrre la pasta con grano 100% italiano. Non giudichare una persona per come ha gestito un dolore che non hai mai provato. Ogni tanto impara a voltare le spalle, ma fallo con eleganza, con la stessa eleganza, di chi con poca eleganza ti ha ferito nel profondo. A volte avere pace è meglio che avere ragione. Le belle persone hanno un buon profumo, un sorriso armonioso, una parola gentile. Ricorda che le persone inutili hanno bisogno di sminuire gli altri per sentirsi migliori. 8 italiani su 10 sono in vacanza, mi ricordo un mese fa, che non sapevano come fare per pagare le bollette. Oppure pagare l'affitto di casa. Molti capiranno la tua importanza solo dopo la tua assenza. Grazie mille per restare con Just Funny One. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao! Grazie a tutti.